Dopo dieci anni di attesa prenderà il via oggi il cantiere per la costruzione della TEM, la tangenziale esterna milanese con l'obiettivo di ultimare i lavori entro il 2015 per Expo. Numerose però le proteste, ieri a Melso 700 no TEM hanno marciato contro l'inizio dei lavori. Via la discussione sul bilancio a Palazzo Marino partirà nel pomeriggio la maratona per approvare il documento economico entro il 30 giugno, ultima data utile per non perdere i 20 milioni di euro promessi dal governo ai comuni virtuosi. L'opposizione minaccia ostruzionismo, restano da sciogliere i nodi sull'Imu per le seconde case, gli artigiani e i negozi di vicinato. Tafferugli, stamani all'esterno di una zona industriale abasiano nel milanese dove un centinaio di operai protestano da alcuni giorni per i licenziamenti. Secondo quanto riferito dal 118, alle 8.30 tra loro e le forze dell'ordine intervenute per sgomberarli, ci sono stati attimi di tensione e poi degli scontri che hanno provocato 14 feriti. La maggior parte sarebbero solo contusi, qualcuno avrebbe riportato lesioni più gravi. Un uomo è rimasto gravemente ferito a Monza dopo essere finito sotto un treno. Il fatto è avvenuto poco dopo le 7.00. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo riuscendo ad estrarre l'uomo vivo. La dinamica dell'accaduto non è ancora nota. Da oggi in quattro stazioni della metropolitana milanese si dovrà strisciare l'abbonamento o timbrare il biglietto anche in uscita. Una misura voluta da ATM contro i trasgressori che non pagano il ticket. L'obbligo riguarda le stazioni della linea rossa di Loreto, Duomo, Amendola e Pagano. Palazzo Marino pensa a una recinzione per difendere il porticato della Basilica di San Lorenzo dalla Movida. Le transenne non bastano, i giovani le spostano e continuano a sedersi sui gradini della Basilica. I residenti si lamentano anche per la vendita abusiva di alcolici di notte. Calerà domani per l'ultima volta il sipario al Teatro Smeraldo. Dopo 70 anni di attività sarà trasformato in un supermercato di lusso con prodotti gastronomici e ristorante annesso. Devo passare la mano a dichiarato il patron Longoni perché sconfitto dai lavori infiniti dei box e dalla concorrenza sleale. Il 30 giugno si terrà una grande festa finale. È partito oggi negli oltre mille oratori della Diocesi di Milano l'oratorio estivo. 450.000 ragazzi accolti, 50.000 gli educatori e gli animatori volontari che organizzeranno le attività da lunedì a venerdì per diverse settimane.